Lo prendo. Anche questo. 500 dollari la cintura e le borse 2.000 ciascuno. Sono una personal shopper. Kira appartiene all'alta società. Ehi, Kira, non può fare le cose normali. E così l'assisto. Non hai nulla di meglio da fare che vestire Kira. Ehm, aspettare. Cosa stai aspettando? Mio fratello gemello Lewis è morto qui. 95 giorni fa. Il primo a morire avrebbe mandato un segno all'altro. Un segno dall'aldilà? È sempre stato lì. Lewis, ci sei. Ho ricevuto un segno. Ne sei sicura? C'era una presenza. Pensi che Lewis sia qui? Non lo so. Kira? Kira è stata uccisa. Lei cosa stava facendo in casa sua? Perché me lo chiede? Mi sento persa. Non riesco a capire se sto impazzendo. Lewis, sei tu? O sono solo io? Tu ci sei. Mi sento.